Guia Soncini, buongiorno! Buongiorno, vorrei il nome sbagliato anch'io, che peraltro ci sono parecchio abituata. Lei è abituata ad avere il nome sbagliato, non il cognome sbagliato. Qual è l'errore più comune? Sono stata a Guaia nella classifica della lettura del Corriere per ben due settimane, quindi conosco gente che si sarebbe dichiarata vittima della società per molto meno. Beh, questo è bello, è quasi un gronchi rosa questo, da appendere, da inquadrare nel salotto. Ma infatti era perfetto perché permetteva di fotografare la classifica e metterla sui social, non sembrando la trombona che dice sono in classifica, ma sembrando la tapina che diceva mi hanno sbagliato il nome. Poi purtroppo la terza settimana l'hanno corretto e niente. E dai social che... Non c'è collaborazione. Come hanno collaborato i suoi follower per quanto riguarda questo errore del Corriere della Sera? Non particolarmente, diciamo, i miei follower, nel senso di quelli che mi seguono perché gli importa qualcosa di leggere le cose che ho da dire, sono sempre abbastanza silenti, anche perché di solito quando dicono qualcosa io gli dico sempre che non è una cosa abbastanza intelligente, quindi sono silenti ed evitano di prendersi delle insolenze. Quelli che invece, che sono la vera animazione dei social, quelli che invece ti seguono per dirti quanto gli fai schifo, quelli di solito ciclicamente mi dicono ma poi cosa parla lei che i suoi libri non vendono nulla e non sono mai stati in classifica? E quindi io a quel punto posso dire ma come sono anche stata guaia? Poi c'è un... è stato un errore che ha generato tutta una serie di dinamiche molto favorevoli. Raccomando a tutti di farsi sbagliare il nome in classifica. E se porta bene altro che... L'economia del sebre, la storia dei nuovi esibizionismi pubblicato da Marsilio, libro che sarà protagonista Passaggi Festival e Passaggi Festival quest'anno Guia Suncini ha come tema con dubbia ragione. Come entra questo tema con dubbia ragione in questa continua esibizione? Non ne ho la più palida idea perché è la prima volta che sento dire con dubbia ragione non so cosa sia e nessuno mi ha avvisato e tutto questo è molto bene però posso improvvisare. E certo che improvvisa. Posso dire che abbiamo tutti dubbia ragione su tutto diciamo in tempi in cui qualunque punto di vista vale e qualunque controcorrentismo ha un suo posto nel correntismo perché ormai è diventato tutto talmente ampio. Ci sono talmente tanti mezzi di comunicazione, talmente tanti palincessi da riempire è un po' la risposta anche a tutte le polemiche sui talk show no? Se tu hai tutta questa roba da riempire è chiaro che devi mettere dentro tutto per riempire e quindi a quel punto il bastian contrario che si piccava della sua posizione, il bastian contrario diventa semplicemente un'altra delle ragioni che hanno diritto ad essere esposte. Guia Soncini, la copertina del libro L'economia del sé qui nel nostro piccolo posto delle parole quando le copertine ci dicono qualche cosa raccontano e non è sempre non è sempre reale questo no? Ovviamente. Le piace? Che cosa racconta? Ce lo vuole dire? Sì mi piace molto tra l'altro è di un artista di cui in questo momento non mi ricordo il nome perché sono completamente... Usa e Detar Usa e Di Cervello che è anche una bellissima donna quindi c'è lì a tutte le qualità Glielo confermo perché siamo andati alla ricerca di Shadetar sempre che io pronunci bene è veramente una grande... Sì non so bene come si pronunci però nel suo Instagram che lei avrà visto c'è una foto di lei davanti a quest'opera con cui noi abbiamo fatto la copertina questo rimando di faccia e di specchi di bocche E lei è bellissima e quindi davanti a questa copertina che oltretutto sembra un po' una stampa di Prada perché Minuccia Prada ha fatto varie volte delle stampe con le bocche e mi sembra la copertina più Instagrammabile del mondo e quindi era perfetta per questo libro che si interroga sull'Instagrammabilità di un po' tutto. Sono riuscita a dire Instagrammabilità senza infaffinarmi. Sa Guia che io leggendo il libro volevo sottolineare quante volte lei ha coniugato il verbo Instagrammare perché è molto bello questo perché ed è arrivato fino all'Instagrammabilità e sono riuscito a pronunciarlo senza impapinarmi però è vero Siamo due, è un primato che vorrei sottolineare. Sì, ormai è tutto quanto un Instagram e qui entriamo nell'esibizione. Lei in questa breve storia, che breve non lo è molto, ma va molto... Dice che mi è venuto lungo. Ma non per dire che lei è venuto lungo il libro perché va molto in profondità, non è una breve storia questa, va molto in profondità. No, perché io invece sono per i libri molto brevi e non riesco mai a farli così brevi come vorrei. Lei ama i libri brevi? Sì, perché secondo me il pamflet dovrebbe essere un centinaio di pagine, invece tendo sempre alle 200 che secondo me sono troppe. Però poi gente lo legge e mi dice avrei voluto fosse più lungo, quindi boh, forse sbaglio io. Ma chi le dice che avrebbe voluto che fosse più lungo il libro è una persona che va sui social, frequenta Instagram, Facebook, TikTok e così via? È una domanda, sì, anche perché ormai diciamo sono in pochi a non frequentarlo. A me la maggioranza dei video di TikTok che guardo li manda Natalia Aspesi che ha 93 anni, quindi diciamo non c'è più nulla, non c'è più nessuno che sia escluso dal mondo social. Forse solo Michele Serna, Cristina, e in questo diciamo è un eroe. Però è implacabile Guia Sunci nei confronti della cara signora Aspesi che mi manda i più raccapriccianti video di TikTok costringendomi a rendermi conto di come ci esprimiamo noi abitanti del presente. Ma perché glieli manda così raccapriccianti? Per un gusto del divertimento o un gusto del divertimento per entrare nel respiro di questo mondo virtuale? Credo che sia per condividere il raccapriccio che è la grande questione del presente, nel senso che non so se lei ha visto il documentario su Gianluca Vacchi. A un certo punto Gianluca Vacchi dice ho ragione io, lo dimostra il fatto che mi seguono milioni di persone e quindi quelli che mi criticano devono arrendersi il fatto che ho ragione io. Ma milioni di persone di sinistra seguivano il Tg4 di Emilio Fede negli anni 90. L'idea di guardare una cosa proprio per dirsi ma guarda questo cretino è un'idea non nuova ma che con Instagram, con i social in generale ha assunto proporzioni gigantesche. Perché noi passiamo intere giornate a fare quella cosa che gli americani chiamano hate watching, cioè guardare una cosa proprio per irritarti. Perché sì, perché è un meccanismo intrinseco del mezzo, perché chi se ne importa di vedere le foto di mio cugino e dire quanto è cresciuta tua figlia, come bellina. È più divertente vedere uno e dire madonna mia, come è stupido questo, come sono meglio io. Ma al di là di questo, Guia Soncini, forse anche un mezzo. Quando io ho letto questa frase in eserco dedicata a Natalia Aspesi, è anche un modo questo di uscire dalla nostra bolla. Perché se io vedo quelli che seguo su tweet, quelli che seguo sugli altri social e così via, spesse volte fanno parte del mio modo di pensare. E noi stiamo lì in quel brodo. Vedere le cose cosiddette raccapriccianti ci permette anche di capire il respiro del mondo, se no viviamo un po' così illusi. Ma infatti credo che una delle più clamorose menzogne che ci raccontiamo rispetto al mondo social sia la questione della bolla. Cioè il fatto che noi stiamo appunto sempre in quella che si chiama filter bubble, cioè in un luogo in cui vediamo solo chi la pensa come noi. E la echo chamber, sto usando un sacco di parole orrende in inglese, ci rimanda alla camera dell'eco, ci rimanda solo ciò che ci somiglia e ciò che già conosciamo. Mentre in realtà a me sembra che i social ci facciano vedere molto di più di ciò che non avremmo mai visto in tempi in cui non c'erano i social. Io ho installato da poco TikTok, perché non mi volevo arrendere a TikTok. E ho fatto questa scelta di non usarlo, cioè di non postare nulla e di non seguire nessuno. E di affidarmi all'algoritmo, che quando io lo apro mi fa vedere quello che decide lui. Non so bene in base a cosa lo decida. Sostanzialmente l'algoritmo di TikTok ha deciso di farmi vedere solo comici italiani che non avrei mai ascoltato in vita mia e che sono per lo più orrendi. E video di Paolo Crepé. E io ho scoperto che Paolo Crepé dice delle cose intelligentissime, non l'avrei mai creduto. Io sarei rimasta al Paolo Crepé che vedevo a porta a porta col plastico di cogne e avrei pensato che Paolo Crepé era una macchietta televisiva. Invece Paolo Crepé dice delle cose sensatissime sull'educazione dei figli, per esempio. E io questa cosa non l'avrei scoperta senza l'algoritmo. Eh sì, quindi bisogna per forza di cose non partire da delle considerazioni negative. Anche TikTok, per quanto può essere bacchettato, noi lo dobbiamo conoscere. Andiamo, Guia Soncini, a fare quello che lei chiama il lavoro di precisione, cioè il commercio del sé. Del cosa mettere in vetrina e cosa tenere invece nella retrobottega. Ora, questa bellissima vetrinizzazione che è rappresentata dai social, bellissima o anche altro, rappresenta veramente quello che pensiamo del mondo, perché c'è tutto il contrario di tutto. Quindi ci dovrebbe essere veramente quello che io esco di casa, entro nel mondo virtuale, che oggi forse chiamarlo virtuale è un errore, veramente un errore, perché siamo on-life, come direbbe Luciano Floridi, sei ore al giorno. Quindi se prendiamo queste sei ore al giorno per quantificare la nostra presenza nel virtuale, forse questo virtuale ha bisogno di un'altra definizione. Sei ore al giorno mi sembra una stima molto modetta. Davvero? Conosco gente che vive col telefono acceso e si filma. Francesco Guccini in una canzone degli anni 70 diceva nemmeno dentro l'accesso possiedo un mio momento. Era un iperbole ed è diventata realtà, perché Fedez, per esempio, si filma mentre è al gabinetto per farci vedere che il figlio lo interrompe. E quindi, diciamo, ha avverato forse. Vuole essere l'esemplificazione del fatto che Guccini aveva ragione, essendone lui un ammiratore. Però non so più dire. Io sono abbastanza contraria all'ipotesi che sia se stessi. Nanni Moretti diceva che uno non è se stesso a casa sua, figurarsi se è se stesso davanti a una macchina da presa o una telecamera. Però non sono più sicura che ci stiano dei filtri, nel senso che credo che specialmente per le persone che sono più giovani e quindi sono nate con un cellulare in mano, non esista più un filtro. Cioè è proprio cambiato qualcosa, secondo me, nei loro unità. Questa cosa verrà studiata nei decenni e probabilmente quando arriveranno delle risposte io sarò già morta di vecchiaia e di colesterolo. Però credo che ci sia proprio uno slittamento nei neuroni di chi ritiene normale riprendersi mentre fa qualunque cosa, di chi ritiene normale guardarsi nella telecamera del cellulare 10-15 ore al giorno, di chi ritiene normale che restino prove di tutto quello che fa. La parte sconvolgente delle sedute psicoanalitiche di Fedez messa su Instagram non è che lui le abbia rese pubbliche perché ormai siamo abituati al fatto che renda pubblico tutto e peraltro nel documentario suo e della moglie c'erano già delle sedute dallo psicologo quindi non è neanche una novità. La parte interessante è capire che quest'uomo non vive un minuto della sua giornata senza registrarlo. Eh sì, non vive un minuto senza registrarlo. Forse quando poi arriverà la vecchiaia dovrà rinunciare alle proprie illusioni e incontrerà veramente la realtà vera. No, forse non vivrà la vecchiaia perché la passerà a riascoltare tutta la giovinezza registrata. Perché poi se tutte queste cose tu non le rivedi e non le riascolti che le hai registrate a fare. Però mentre noi al massimo tenevamo un diario e quindi ci spunta fuori un diario da un cassetto quanto ci possiamo mettere a rileggerlo? Due ore. Per riascoltare tutto quello che hai registrato in presa diretta ci vogliono altrettante ore? Lei si pone e pone a noi una domanda importante Guia Suncini se produci post su Instagram stai producendo qualcosa? Da quando ho letto questa frase su Instagram vado veramente con i piedi di piombo a scrivere. Ha smesso di postare. No, però dico ma servirà o non servirà? E questa è una domanda importante perché non è che uno debba scrivere i sonetti di Shakespeare o chissà che deve entrare con un certo registro o con una condizione di causa poi va bene lo scherzo va bene tutto ma il ragionamento di pancia forse è anche un po' troppo imperante. Sì, io in realtà la dico quella cosa parlando dell'arte concettuale che secondo me è la cosa che è stata veramente uccisa da Instagram nel senso che 25-30 anni fa Tracy Emin prendeva il suo letto sfatto e ne faceva un'installazione che veniva messa in una galleria d'arte veniva comprata da un collezionista veniva quotata nelle aste adesso al mio letto sfatto io farei una foto che metto su Instagram e al massimo prendo dei cuoricini poi ovviamente se io prendo molti cuoricini quella roba lì diventa un business perché diventa diventano sponsor che mi chiedono di mettere la loro marca nei miei post eccetera però non sono sicura che sia la stessa cosa anche nell'ipotesi in cui io dagli sponsor su Instagram ricavassi gli stessi milioni di sterline che Tracy Emin ha ricavato dalle sue idee non sono sicura che il gesto valga nello stesso modo abbia lo stesso peso e resti nello stesso modo anche perché per definizione il social è una cosa che passa è difficile pensare che noi un domani un domani inteso come fra due mesi stiamo qui a parlare di un post di Instagram di oggi non è una cosa fatta per durare e non solo perché su Instagram ci sono le storie che non sono marginali secondo me non vanno considerate un meccanismo non da studiare nel senso che in quest'era della permanenza totale in cui qualunque programma televisivo tu abbia perso puoi recuperarlo su una piattaforma qualunque film tu non abbia visto c'è modo di ritrovarlo online eccetera eccetera le storie di Instagram sono l'unica cosa che o le vedi nelle 24 ore in cui ci sono o non le vedi più e quella roba lì ricrea l'impermanenza di quando noi eravamo noi anziani eravamo piccoli e se ti perdevi se uscivi la sera ti perdevi un programma non lo vedevi mai più lei poco fa parlava dell'arte con gli assoncini in che modo possiamo trovare la parola arte negli nft non fungible token mamma mia che è cominciato per me è cominciato con il libro novecento di baricco questa cosa a conoscere andarci novecento di baricco è arrivato abbastanza ultimo è cominciato con novecento perché l'ha letto sui giornali italiani sono veramente una truffa molto interessante dovremmo andare a chiedere scusa a Vanna Marchi perché l'idea che adesso io ti do dei soldi per avere una cosa che però non ho è che hanno tutti una cosa che possono avere tutti e che però teoricamente è mia ma non so forse c'è scritto da qualche parte che è mia ma più probabilmente lo so solo io è una roba completamente folle cioè non mi è capitato di essere su un treno qualche settimana fa con due trentenni nel senso che gli è stato poi chiesto di che hanno posto e hanno detto che erano del 92 quindi per questo ne so l'età che stavano tentando di spiegare a Tremonti che era seduto nella stessa carrotta del treno cosa fossero i bitcoin e loro hanno fatto una lunga spiegazione sul fatto che un euro varrà sempre un euro ma un bitcoin invece si rivaluterà quindi bisogna investire in bitcoin e a un certo punto hanno detto se lei ha un milione di euro deve metterli in bitcoin e Tremonti ha detto ma non è meglio sotto il materasso e io da una parte ho pensato è la risposta che darebbe mia nonna e dall'altra ho pensato ma mia nonna non aveva ragione Giulia Soncini usciamo dai social per così dire perché una delle pagine sicuramente più interessanti dei libri che io leggo sempre con piacere ma non perché si guardi dal buco della serratura è la pagina dei ringraziamenti e anche qui si sorride lei dice ma soprattutto ringrazio quello psicononista che 30 anni fa mi faceva sempre aspettare in sala d'attesa mentre finiva di prendere il sole in terrazzo e neanche lo faceva per instagrammarsi e che 30 anni fa mi introdusse al concetto di puere eternus quando sembrava un'eccezione e così via perché ha ritenuto di ringraziarlo? per le cose che ho scritto che ha appena letto perché sono state lezioni importanti le cose le cose importanti stanno sempre nei dettagli come peraltro sa chiunque se è mai andato da uno psicanalista lo psicanalista è quella figura a cui tu racconti di quella volta che non so è morta tua madre il tuo fidanzato ti ha lasciato e ti hanno bocciato a scuola nello stesso giorno e dici e poi mi sono versato una coca cola e lo psicanalista si illumina e ti dice ah e perché proprio una coca cola? per cui queste cose diciamo avvenute a margine delle sedute erano sono quelle che sono rimaste Buia Soncini siamo arrivati al termine di questa conversazione e pensi lei ha citato Fedez e non ha mai citato la pluricitata Chiara Ferragni non solo ma l'ho chiamato Fedez cosa che non faccio mai di solito di solito lo chiamo il marito della Ferragni ecco come si fa con le donne la moglie di beh certo perché la moglie di è una è una formula che dipende dal fatto che il cognome si usa non si usa perché sei maschio si usa perché sei quello che guadagna di più in casa essendo lei quella che guadagna di più in quella casa uso il cognome di lei beh è un concetto nemmeno nemmeno tanto sbagliato Guia Soncini protagonista al festival Passaggi di Fano e Guia Soncini autrice del saggio l'economia del sé breve storia di nuovi esibizionismi pubblicato da Marsiglio ma prima di salutarci invece qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni il libro che mi fa compagnia non stanno faccio anche domanda difficile io non so mai cosa rispondere a questa domanda che di solito è formulata in cosa stai leggendo pensi al comodino che cosa c'è sul comodino no perché non ho un comodino pensi a un tavolino faccio lo psicanalista se mi risponde le spiego perché le sto dicendo questa cosa non è perché non so cosa sto leggendo è perché non sto mai leggendo niente perché se leggo un libro lo finisco quindi non lo tengo sul comodino e ne leggo cinque pagine la sera non facendo di mestiere commercialista e non leggendo nei ritagli di tempo quindi non ho assolutamente nulla da da dire leggendo in questo momento posso dirle cosa ho letto di recente mi è piaciuto ed è il libro di Tina Brown sulla casa reale inglese che si chiama The Palace Papers che non è ancora tradotto in italiano non so come lo tradurranno ma che è pieno di meravigliosi pettegolezzi perché Tina Brown lavorando nel giornalismo inglese da 50 anni è piena di fonti ma soprattutto è pieno di favorose cattivere su Meghan Markle che è diciamo la Diana in 74 che questo secolo si può permettere che peccato che ci possiamo permettere solo questo grazie davvero Guia Soncini noi ci siamo divertiti in questa conversazione lei? ma noi siete lei e il suo gatto o no lei dice gatto o è un plurale di mitomania lei lei dice il suo gatto perché il gatto ha un forte una forte valenza su Instagram ha messo no io dico il suo gatto perché è la mia formula quando leggo le recensioni scritte con lui quando dice a noi è più allora noi siamo in cinque io e gli altri quattro oltre la finestra non sono quattro personalità sue me lo giura no no non sono mica sono mica davvero ma io non sono nici immaginari non sono mica Fernando Pessoa con gli Eteroni fosse vero beh non sarebbe male eh lo so che non sarebbe male peraltro è un mio autore di formazione si portava moltissimo quando facevo il liceo era proprio molto alla moda straordinario grazie davvero Guia Suncini buon lavoro buona giornata arrivederci grazie a tutti